Ancora attacchi, ancora morte, ancora bambini impiegati nella follia degli attacchi suicidi. Il terrorismo ovunque nel mondo è sintomo della stessa malattia. Un cancro che si diffonde e divora la pace nel mondo. Insieme fermiamo Boko Haram. È un orrore che non conosce fine. È terrore, panico, orrore, strage. Il corpo delle donne come arma di guerra, i bambini addestrati ad uccidere, un popolo annientato. Ma che cosa aspettiamo ancora? Stupri come armi di guerra, intolleranza portata all'estremo, violenza, 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 nelle idee come nelle azioni. Questo è Boko Haram. L'Europa non può accorgersi dei problemi solo quando la colpiscono al cuore. Il cuore dell'Africa è colpito dallo stesso fondamentalismo terrorista ed assassino. Uniamo le forze. Questa minaccia richiede quindi una risposta collettiva, effettiva e decisa a cui anche l'Unione Europea per storie e valori non deve sottrarsi. Saremo vicini all'Africa, aiuteremo la Nigeria in tutti i modi. Ci mobiliteremo come ci siamo mobilitati per Parigi e useremo tutti gli strumenti di politica e di cooperazione internazionale. Insieme, fermiamo Boko Haram. Stop Boko Haram. Stop Boko Haram. Stop Boko Haram.